Ho fatto questa tantissima anni fa per... Yesterday... Oh... It's great! I'm in Paris, I'm so shy... Io sono di Firenze... No, vabbè, no, a parte tutto, ma io veramente sono orgoglioso di essere in bar, vediamo, possiamo fare che cazzo... Quando si alza la mattina e fa... Oh, Madonna, se la faccio perdesse... Non si sa... Avete votato? Andrei... No, non voglio sapere, non voglio sapere... Non voglio sapere perché... E niente, adesso io dovrei chiudar perché so che questo è un posto dove fra l'altro la gente viene perché deve ballare... Deve sfogare i bolletti spiriti attraverso la musica della discoteca, veramente, che è proprio che scarica, diciamo, tutte le tensioni di una giornata intera. Oggi è sabato... E quindi il sabato se eri una forza a forza va divertire. Ehm... Allora, però... Quindi chiudo con questa canzone che però, più che canzone, è un fatto serio, diciamo, un fatto serio che io ve lo voglio raccontare perché... Va detto, anche perché questa canzone, questo fatto, tradotto in canzone, è una strategia del mondo e io la serba la voglio raccontare. Dunque, è morto... È morto un gallo. Però questo gallo, voi sapete che il gallo quando canta fa chi-cri-chi, questo gallo non faceva chi-cri-chi, faceva co-co di co-co da. Non era presidente, ma era... No, vabbè, cioè... Iniziava un po' così. Ed è stato ucciso questo gallo e quindi non cantava chi-cri-chi, faceva co-co di co-co da. È stato ucciso, non canterà più né co-co di né co-co da. Non ti dico questo fatto, ha fatto il giro del mondo. E secondo il posto dove è arrivata questa notizia, hanno fatto la traduzione di questa canzone a secondo le lingue del posto, diciamo. E io stasera la farò sentire questa canzone in italiano, in francese, in inglese, in russo e in latino. Questa canzone, questo gallo che è morto e non canterà più né co-co di né co-co da. La canzone fa più o meno così. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, non canterà più né co-co di né co-co da. Non canterà più né co-co di né co-co da. Ecco, 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 ecco co di ecco co da. Ecco, 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 ecco co di ecco co da. Come vi dicevo prima, praticamente questa canzone ha fatto il giro del mondo, dall'Italia la notizia si sposta e arriva in Francia. Appena arriva in Francia tutti a piangere perché anche lì vengono a sapere che il gallo è morto e non canterà più né co-co di né co-co da. E in Francia cantarono così. Penso una traduzione in francese che faceva più o meno così. Ecco, 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 ecco co di ecco co da. Non vi dico, in Francia tutti quanti a piangere, la notizia della Francia si sposta, cammin, 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 arrivi in America. Appena notizia arrivi in America tutti quanti gli americani cominciano a piangere perché anche lì si vengono a sapere che il gallo è morto e non canterà più né co-co di né co-co da. E in America fece la traduzione in americano che faceva più o meno così. I watched one smile yesterday, I watched one again, kiss kiss bang bang, life flying in San Francisco, bene un universo complesso. Non vi dico, tutta l'americana piange, la notizia dell'America si sposta, cammin, 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 arrivi in Russia. Appena notizia arrivi in Russia tutti quanti cominciano a piangere, anche in Russia perché vengono a sapere che il gallo non canterà più né co-co di né co-co da. E in Russia fece la traduzione in russo che faceva più o meno così. La notizia della Russia si sposta, cammin, cammin, cammin. Arriva alla città del Vaticano. Appena la notizia arriva alla città del Vaticano tutti a piangere, anche lì perché vengono a sapere che il gallo è morto e non canterà più né co-co di né co-co da. E fece la traduzione in latino che faceva più o meno così. No... 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 No stai calusti est mortus. No stai calusti est mortus. Il ei ne non cantàpite co cos di e co cos das. Il ei ne non cantàpite co cos di e co cos das. e le monache non vi dico, tutto il mondo che piangeva chi piangeva in italiano, chi piangeva in francese chi piangeva in inglese, chi piangeva in rosso chi piangeva in latino, tutto il mondo che piangeva perché tutti venivano a sapere che il gallo era morto e non canterà più, né cocodì e né cocodà e mentre tutti piangevano, a un certo punto da lontano arrivò uno solo che rideva a differenza di quel che piangeva con la meraviglia di quelli che piangeva come è? è stato ucciso il gallo non canterà più, né cocodì né cocodà non sappiamo neanche chi è stato, e quello sta ridendo andiamo a chiedere a quelli, per quel motivo sta ridendo allora si avvicinarono a quelli, giovani scusi lei come fa a ridere con una notizia del genere che il gallo è morto e poi dice, io sto ridendo perché io lo so che è stato uccidere il gallo tu lo sai che è stato uccidere il gallo? e chi è stato uccidere il gallo? e poi dice, vuole sapere che è stato uccidere il gallo? io lo so, si vogliamo sapere chi è stato uccidere il gallo e quello disse sono stati gli che so a cedù tu guardi te ah sì, state tu che si a cedù tu guardi perché ma avevano tu cazzo con cocodì con cocodà ma avevano tu cazzo con cocodì con cocodà e poi, 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 poi con cocodà signore e signori Gianni Ciardo ok, grazie a tutti bravo bravo bravo